Alla sua morte avvenuta nel 632 d.C. Mahometto aveva unificato gran parte delle tribù arabe in un territorio che comprendeva quasi tutta la penisola arabica. Il suo successore, Abu Bakr, completò la conquista dell'Arabia e si spinse fino alla Siria. I califi che gli succedettero estesero il loro dominio dalla Libia fino all'alto piano iranico, sconfiggendo sia i bizantini sia i persiani. Inoltre iniziarono l'espansione verso la Tunisia da una parte e verso la Nubia dall'altra. Sotto gli Omayadi, che regnarono dal 661 al 750 d.C., l'area islamica si estese ulteriormente, a ovest lungo tutta l'Africa settentrionale fino ad arrivare alla Spagna e a est verso l'Asia centrale giungendo fino ai confini dell'India.